Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico. Fra pochi istanti vedrete un filmatino brevissimo con un rotifero, si chiama così questo animaletto, questo batterio, per essere precisi, di poche cellule, che è stato ritrovato nel permafrost, diciamo, ghiacciato in Siberia e ha ripreso vita dopo 24.000 anni. Ecco, questo batterio è risuscitato dopo 24.000 anni e tra l'altro si è anche moltiplicato, per cui i rotiferi, questi batteri piccolissimi, hanno questa capacità di ibernarsi, di andare in ibernazione quando c'è freddo e poi di ritornare in vita. Una caratteristica che non hanno la maggior parte degli esseri viventi, loro ce l'hanno, ma scoprire che dopo 24.000 anni ancora ha questa facoltà di ritornare in vita, questo ha sorpreso moltissimo. È una notizia dell'estate scorsa, di quest'estate, che ha colpito molto, ha colpito anche me onestamente. E mi ha fatto pensare che se è possibile che un organismo di poche cellule, non si può neanche considerare animale, perché i batteri non sono né animali né vegetali, è una via di mezzo, questo organismo minuscolo è riuscito a ritornare in vita. E questo non può che farmi ripensare a quello che sarà l'esito dei credenti dopo la morte. Noi abbiamo un libro che ci promette un dopo la morte col Signore per i credenti, per coloro che sono in Cristo. Ecco, più che credenti, che è un termine un po' vago, coloro che sono in Cristo. E c'è una promessa molto bella nella parola di Dio, che ora vi voglio leggere, perché dice che il Signore stesso con un ordine, con voce d'Arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremmo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Qui si parla chiaramente di questo evento che tutti i credenti aspettano, la risurrezione dei corpi. Ne parla la prima lettera ai Corinzi, ne parla Gesù, ne parlano vari versi della parola di Dio. Questo verso ancora in maniera ancora più chiara, forse, ci sarà un momento in cui i morti di due, tre, quattro, cento anni fa, due, tre, quattromila anni fa, torneranno in vita e saranno col Signore. E dice noi viventi, se saremo ancora viventi in quel momento, saremo trasformati e insieme ai morti in Cristo raggiungeremo Gesù per stare per sempre con Lui. Ti sembra inverosimile? Ci sono molte cose nella parola di Dio che sembrano inverosimili ma sono verissime. Molte promesse che sembravano inverosimili quando sono state pronunciate e poi si sono avverate alla lettera. E questo mi fa pensare che anche questa promessa si avverrà. Dunque, un rotifero, questo batterio è tornato in vita dopo 24.000 anni. Quando sarà il momento tuo e mio? E soprattutto siamo pronti per andare col Signore, visto che qui specifica i morti in Cristo. Non dice i morti cattolici, evangelici, ortodossi, i morti in Cristo. E questa è una condizione essenziale. Se tu sei in Cristo, morirai in Cristo e risusciterai in Cristo. Altrimenti la tua religione, il tuo buon operare non basta. Ok, buona giornata, buona riflessione e Dio vi benedica. Grazie. Grazie.